Musica Buongiorno, ultimo appuntamento con Confcommercio Notizie prima della pausa estiva. Iniziamo parlando delle imprese venete che hanno tempo sino alle ore 16 del 14 luglio per prenotare i fondi messi a disposizione dalla regione Veneto attraverso il bando Ora Veneto. Una volta ammesse si dovrà confermare la prenotazione del contributo entro il 16 luglio seguendo le istruzioni che la regione invierà all'indirizzo PEC dell'impresa. Ricordiamo che il bando riserva oltre 20 milioni di euro per le micro e piccole imprese del commercio al dettaglio della somministrazione dei servizi alla persona che hanno subito la sospensione dell'attività per effetto del DPCM dell'11 marzo 2020 legato all'emergenza Covid. Per maggiori informazioni è a disposizione l'ufficio bandi e agevolazione di Confcommercio Vicenza. Per aiutare le micro, piccole e medie imprese a superare la crisi economica post-Covid, la giunta della Camera di Commercio di Vicenza ha approvato in settimana la variazione del bilancio di previsione 2020, con la quale vengono stanziate risorse straordinarie per iniziative a supporto della liquidità pari a 3 milioni e mezzo di euro. Un milione e mezzo di euro per un bando di contributi con il quale la Camera di Commercio di Vicenza coprirà i costi di istruttoria e di garanzia sostenuti dalle aziende per le pratiche di richiesta di finanziamento tramite i confidi. Il contributo a fondo perduto sarà pari al 100% dei costi che, come noto, variano in funzione dell'entità del prestito richiesto, con un importo massimo di 5 mila euro per azienda. Un ulteriore milione di euro sarà invece utilizzato per potenziare i bandi che la Camera di Commercio di Vicenza aveva già programmato per il 2020. Infine, un altro milione di euro sarà utilizzato per contribuire ad altre iniziative di sistema a supporto delle imprese in fase di attivazione o di prossima attivazione a livello regionale e nazionale. Per Commercio Vicenza il disegno di legge di riforma del settore agriturismo legalizza una situazione di concorrenza sleale tra imprese agricole da un lato, i ristoranti ed hotel dall'altro. I particolari nel servizio. Commercio Vicenza chiede alla Regione del Veneto di fare marcia indietro sul disegno di legge regionale agli agriturismo, approvato dalla Giunta a fine giugno e prossimamente all'esame del Consiglio. In particolare, secondo la FIPE, che rappresenta il mondo dei pubblici esercizi, le ipotesi contenute nel provvedimento rappresentano un ulteriore passo verso la sostanziale equiparazione dell'agriturismo alle attività di ristorazione e ospitalità, con però un inquadramento fiscale e normativo ben più favorevoli per gli imprenditori agricoli rispetto a quelli del turismo, che si troverebbero dunque a competere ad armi impari. Sorprende che in un periodo così delicato per il settore della ristorazione, con imprese in grandissima difficoltà a causa del crollo dei flussi turistici, la Giunta regionale abbia avvallato un disegno di legge che di fatto legalizza una situazione di concorrenza sleale tra imprese, afferma Gianluca Baratto, presidente di FIPE, Confcommercio Vicenza. Le forti critiche del mondo della ristorazione al disegno di legge veneto sull'agriturismo si concentrano in particolare su alcune novità di rilievo, la modifica della quota di prodotti che devono obbligatoriamente provenire dall'azienda agricola, abbassata al 50%. A questo aggiungiamo che per un altro 35% dei prodotti la norma permetterebbe all'agriturismo di utilizzare una così ampia scelta di alimenti biologici, DOP di qualità verificata, da rendere di fatto impossibili verifiche e controlli sul rispetto della prescrizione. Preoccupa poi la possibilità di offrire in cantina esperienze di abbinamento dei vini agli alimenti, che il disegno di legge introduce in modo così generico da dare una sostanziale via libera a servizi di ristorazione. Per FIPE e ConfCommercio, se passa questa riforma, non ci saranno più sostanziali differenze tra i servizi offerti da un agriturismo e quelli di un ristorante o di un albergo, ma a questo punto è doveroso applicare il principio sacrosanto, stesso mercato, stesse regole. Se ad un'agricoltura non basta il reddito della sua azienda, liberissimo di ampliare l'attività, ma con tutte le autorizzazioni e gli obblighi controlli, le imposte locali nazionali dei ristoranti ed alberghi, eliminando privilegi anacronistici e fuori della realtà. Centro Veneto Bassano Banca e ConfCommercio Vicenza hanno rinnovato la loro collaborazione che riserve interessanti vantaggi alle imprese associate a ConfCommercio, anche guardando allo sviluppo del delivery e alla formazione di nuove professionalità. Nei giorni scorsi, nella sede centrale dell'Istituto di Credito a Longare, il direttore generale di Centro Veneto Bassano Banca Mariano Bonatto e il capo settore Vicenza Davide Radin, con Ernesto Boschiero, direttore di ConfCommercio Vicenza e responsabile del marketing associativo Gianluca Dal Ceredo, hanno sottoscritto nuovamente l'accordo. Tra i vantaggi offerti dalla convenzione vi sono condizioni di favore sui conti correnti business, l'installazione del post gratuito e commissioni agevolate e l'esonero dal pagamento del canone per i primi 12 mesi a chi adotta il mobile post, che permette al cliente di usare carta di credito o bancomat anche nel pagamento della consegna a domicilio. Particolare attenzione viene riservata anche alla formazione professionale attraverso una linea di credito studiata specificatamente per gli utenti dei corsi ESEC a formazione e dell'Università del Gusto, le due realtà di aggiornamento professionale che fanno riferimento a ConfCommercio Vicenza. L'accordo prevede il finanziamento per il 100% dell'importo dei corsi di ESEC a formazione e Università del Gusto da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 15.000 euro, ad un tasso fisso del 2%. Sentiamo il direttore generale di Centro Veneto, Bassano Banca, Mariano Bonatto, e il direttore di ConfCommercio Vicenza, Ernesto Boschiero. È un importante sicuramente accordo che prevede tutta una serie di agevolazioni per le aziende associate e quindi minori costi dal punto di vista della gestione, dei rapporti con la banca. Altro aspetto molto importante riguarda poi il finanziamento per i percorsi formativi di ESEC a formazione, pertanto i percorsi formativi a qualifica possono essere finanziati direttamente dal Centro Veneto Bassano Banca. Ringraziamo l'Associazione Commercianti per l'operazione di oggi che ci permette di esprimere effettivamente la capacità di fare rete, banca del territorio, aziende del territorio, una rappresentativa forte che dà la possibilità sia alla banca che agli associati direttamente di questa associazione che rappresenta veramente il fulcro per la provincia di Vicenza per la categoria di poter crescere e continuare ad essere sostegno sia per la parte finanziaria che alla banca sia per la parte informativa e di specializzazione di competenza che riveste l'associazione. A settembre al Centro Formazione ESEC alla struttura per la formazione di Confcommercio Vicenza prenderanno in via tre proposte professionalizzanti che consentiranno di acquisire ottime chance per accedere al mondo del lavoro. Si tratta innanzitutto del corso per la qualifica di cuoco che inizierà il 14 settembre di quello per la qualifica di pasticcere. Finizierà invece il 21 settembre. Sentiamo a proposito Sara Patrizzi. Sì, allora noi, le nostre classi sono di massimo 22 persone. Anche in questo periodo noi riusciamo a garantire questi numeri perché le nostre aule, i nostri laboratori sono molto grandi e quindi anche con le misure di sicurezza e il distanziamento sociale noi possiamo garantire di poter accogliere 22 allievi. L'articolazione del corso prevede 300 ore di formazione in aula e in laboratorio e poi 300 ore di tirocinio o in un'azienda ristorativa o in una pasticceria. Al termine del percorso è previsto un esame il cui superamento consente il rilascio della qualifica della Regione Veneto che ricordo essere valido non solo sul territorio nazionale ma anche a livello europeo. Il 17 settembre prenderà invece il via il corso per ottenere l'attestato per esercitare la professione di assistente alla poltrona del dentista presso gli studi odontoiatrici. Il corso costa di 300 ore di formazione di cui 50 di esercitazioni pratiche, 400 ore di stagio in studi odontoiatrici e strutture autorizzate. Come detto per esercitare la professione di ASO è necessario avere frequentato un corso di formazione autorizzato da una Regione o da una provincia autonoma. Il corso che propone ESAC Formazione è appunto approvato dalla Regione del Veneto e consente il rilascio della qualifica. Proprio in questi giorni si è conclusa la fase d'aula del primo corso ASO tenuta all'ESAC che ha come direttore scientifico il dottor Paolo Andriolo. Sentiamo. È un corso sicuramente che se ne sentiva molto l'esigenza perché finalmente le assistenti di studio odontoiatrico possono avere una loro abilitazione, un loro mansionario e avranno un ruolo ben specifico e anche molto importante all'interno dello studio dentistico. È un ruolo determinante perché svolgono funzioni sia di aiuto al medico che di accoglienza. Il ruolo dell'assistente è un ruolo a 360 gradi perché comunque non è solo assistere il medico ma è anche accogliere il paziente, relazionarsi in maniera ottimale con tutto il team e anche saper gestire gli spazi e tutti i macchinari e le procedure che all'interno dello studio dentistico sono la base. Lunedì alle 12.30 giunta ASCOM, alle 13 Consiglio ASCOM, giovedì alle 13 Comitato Fidimpresa e Turismo Veneto. Prima di chiudere vi ricordiamo che nei mesi di luglio-agosto gli uffici cofcommercio sono aperti solo la mattina e che l'accesso è consentito rispettando le misure anti contagio Covid. Questa è l'ultima puntata di Cofcommercio Notizie prima della pausa estiva e quindi vi diamo appuntamento alla prima domenica di settembre puntuali per l'appuntamento con le notizie per le imprese del commercio, del turismo e dei servizi. Vi aspettiamo e buona estate. Arrivederci a tutti voi! Grazie a tutti!